E ancora una volta, ciao ragazzi! E ben ritrovati, mi sono fatto male Ma lei è un bullo, e io sono una vite E siamo... No, di solito è un bullone, però... I montatori Stanno sapendo quella roba che le ho dato, molto buona Mmm Eh, ti ho dato una bottiglietta Che cosa mi hai dato? Una bottiglietta d'acqua, guarda nel tuo inventario Non c'è Ma poi non è acqua, scusa Guarda nel tuo inventario, ce l'ha E dopo questo buco Non è il momento di fare questi meme, però In che senso? Sasso Ah, ma no, ma scusa, è un drink E quindi? È un drink Sasso, guardi cosa ho fatto io Eh, 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 non mi sono soltile Il petardo Che si può lanciare Se lo metta nel culo È sparito Se lo sono rubati Dammi tutti i soldi che hai, subito No, non si vede la texture del petardo nella balestra Eh, non sono riuscito a farla Perché dovevo modificare roba e non ce l'ho sbatta Anche perché non mi è riuscito Prendi la ciabatta Ah, ma che male, andiamo Tocca l'aria persa L'ho Dito L'udaito Eh Allora, io devo fare i settori 60 minuti, Doc Belli Non è difficile contare un'ora In che senso? Tenga No, buono questo Ma non l'ho mai avuto, lei No, buono Bevo io, buono, va bene Ciao No, no Visto che il PC sus si è sussato Devo reimpostare la prospective Ma è in alto Ma non mi va a me la prospective M&M's best cause ever Uh Eh, è proprio disattivata Certo No Cazzo, è al contrario la prospective Così Non è come la voglio io Invert Questa Ah Finiori Fiamo operativi Non per molto Mani in alto, lei Brucio Brucia Ma il mio corsore si è buggato Ah, sasso E lei Lei mi può Andare nella live Va Vio Rubato Inflacante Si sono messi a dormire Quando ero a cercare Eh, sasso Dovremmo andare A cercare Il portale Eh, ma io devo fare i pittare C'è solo un problema Ma io Non ho più il waypoint Create waypoint V Con N No Ah, sasso Nella nuova serie Che non spoileriamo Si Metterà Il Poichiatto Se si riesce Penso Pensa Ti mando No, non ti mando Ti Togliti No Dammi il petardo Non posso tirare Dai che non ho Non ho cose Ho tirato Anzi aspetti Tieni Metti Sei davanti al nove Sono venuti a random Ah Dai dammi Rubo il petardo Scappo dal petardo No No Io mi passo in zero I petardi No No Io ti brucio la casa No Sì Tieni Prenditi Sti razzi Merda Aia Oh basta Quanto danno fai Poco Ciao Gablo Benvenuto Ma gli altri petardi Mancano due Mancano due Gli ho dati tutti Gli avrai persi nel grano Eh no È un server privato Mi dispiace Dove sono i petardi Del sasso Ma li hai persi Qua sopra Se li hai mangiati Il mondo Eh ma erano qua Siamo coglioni Tu Mi hai tolto mezzo cuore Ma sono più forti Io che te Incredibile Sasso Eh Sa cosa ho dimenticato Io di riparare Il mio piccolo Sì Vallo a riparare No 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 Di aggiustare questa pala Di aggiustare Bob Aggiusta tutti Aia Dio santo A te non ha aggiustato A madre Puta Eh Adesso Mi lasceresti Solo Impostare L'obiettivo Che mi sono dimenticato Allora Vite C'è Punto TV Slash Dashboard Dashboard Ah Gentili Dash Man Bu Sì Lo conosco C'è tipo Gioca con 69 secondi Poi smesso Copia 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 in cula Giusto Non ho più il camo No Porco Giuda Giudo Porco Eh ma Giuda è proprio un porco E hanno valente Eh sì Eh sì Eh sasso Eh sasso Più 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 Non so scrivere Petti sasso Più 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 Povero Io sono povero Io tengo ferro C'è proprio Ok la lasciamo lì Va bene Sul sofixuto Senti Dobbiamo fare anche una farm di creeper Il viparello Lo dropperò Magari settimana prossima Brava Sabato cross E venerdì Questo Magari facciamo un evento È main Crattato Ti crafto la famiglia Anzi dobbiamo craftare gli occhi dell'endo Susso Dell'endo porco Eh Susso Eh Dai che andiamo Nell'endo Dai Dai Da quella parte Ah hai fatto già gli occhi del trend Dai a questo punto mi ci infilerai già oggi nel portale Non scherzo Dici Ma se com'è Però prima Oh voglio fare sta cazzo di farm di creeper Perché mi devi murare la casa Perché io sono il muratore Allora adesso devi aspettare perché io devo farmare un po' di robe per ripararmi il piccone C'è ancora venti all'estero Allora io vado all'endo No dai ma aspettami Al portallo No dai aspettami Muoviti Allora ne voglio di farmare un po' di livelli No ma ne ho 40 Dai per favore riparami il piccone Se no lo faccio io ma almeno aspettami Ma arriviamo almeno là dai Dai non ho un piccone Dai su Non ti costa niente Allora teniamo l'angolazione allora Bravo Meno 106 30 Aspetta un secondo dai su Senti dato che sono bravo non abbiamo un Envy il porco cane Non posso ripararlo come volevo io così ero già pronto Però siamo nella merda non c'è un Envy Tu sei la merda Se l'hai rubato è il tonno Il tonno ruba tutto No nel senso Cosa? No niente Adesso lo dici Ti ho detto di dirla Quelli Non descriverla Bambi Mi Il tonno ruba sempre Bambi Cioè io non lo vedo mai nel film Perché il tonno se lo ciula Subito eh Cioè parte il film Ciula il fiume No si ciula Bambi Proprio cioè arriva lì Crap Mi Sembrava di aver combinato Casino Un astro Un astro dis Slocato Vabbè sasso Sasso dislocato Pavel Non vuoi fare incazione Ma in alto Pavel Già una volta L'ho ammazzato per sbaglio Hai ferro No è vero Andiamo dai Vomenico Fiau Andiamo Dove Nella farm Al volo un secondo Che cazzo fai No non ho preso un nuovo pc L'ho aggiornata windows 11 Però l'ho tipo tutto rotto Ho raccontato tutto nel video Che è uscito sul canale Quindi se vuoi info vai lì La madre Grazie Aspetta Eh sì sì C'era già l'ender Il chest Perché Voglio iniziare una nuova serie Quindi vogliamo finire al più presto Microonde Vabbè io ho il necessario Per affrontare una Una avventura Ma vuoi già andare A sconfiggere il drago No Ma non si sa mai Allora Se mi lasci riparare il piccolo Ah beh sì Sì Dopodiamo da mangiare Al drago Ah no ok Dai mi puoi dare la statuetta Allora Dai Ti do una membrana di phantom No non voglio la membrana di phantom Dammi la statua Te l'ho data in là Te l'ho droppata Ce l'hai tenata nell'inventario Apri l'inventario Non ce l'ho Ma come l'ho droppata qui Qui I Non c'è più L'ho ripresa Cioè io Io mi sono avvicinato così Me l'ha fatto riprendere No Sono venuto perché mi era arrivata Eh sì Ha rubato il pc A domenico sasso Ha rubato il pc Andiamo da pentola Te l'hai da mangiare Allora Io intanto Penso a questo Allora Hai sentito quello che ho detto Sosso Lei ha sentito No Respiration 3 Ma no Ah no Vabbè Allora Cazzo Me l'ho più di fatto Respiration Alla pentola Nel mio piccone ascia Lancia Ragazzi Devo rompere Ok Tieni pentola Mangia Eh no Signor Domenico Ah ecco Pentola vuoi rientrare nella barca Per favore Pentola Torna In cantina No Ma aspetta Pentola vai in cantina Si è incastrata sotto la barca Vabbè Pentola È unica Non ha famiglia Il faffo È Il faffo È brutto Vai nella Vai Da me Nella mia cesta Appena entri in casa mia Io avrei detto Vieni Da me No In una delle ceste In casa mia C'è sta Una spada Consumata in diamante La porti Cosa La spada in diamante Ci sta Sì Consumata Porta quella Perché se no Mi ripara In cantina su fortnite C'erano 3000 bimbi Uuu Viene Però Eviti di specificare Perché Twiz Ecco Si dissi la nazionalità Ecco Non è molto A Twiz Non piace La nazionalità Quindi I bimbi I bimbi vanno bene Ma Non si dice quali No Lì Bravo No Sopra Non ciullarlo Perché Basta Cosa Il mio standardo Ridammelo Cosa faccio con la carota in mano E Questa l'ho tirata fuori dai bambini Non dico da dove Però dai bambini Bravo Rimetti lì e vai Eh sì Drago Domanda mangiare Il drago Viene mangiato dai bambini Ah il drago Sì lo conosco Non ho capito il meme Boh è uno di Harry Potter Credo Drago Non lo so Comunque è un tipo di una serie tv E siccome Io Il tv Non ce l'ho Quindi Ah te l'ha rubato Giusto Cos'è il mini marty È il totem del non morto Custom Porto danno Vedi minecraft totem Off and dying Perché tieni off i tooltips Ah no Ok Sai Ho appena comprato E comprato windows 12 Dove vai indietro la farm Ah ma io sto andando a land Ma aspetta Ti ho detto che devo riparare il piccone Ehi Mi dimentico Dai che tipo Da 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 20 utilizzi Sono già tipo a 1200 Muoviti Che l'ho quasi già riparato Eh allora Non servo più No in realtà Sono a 500 Però va bene Ti tagli Lui non sa contare ragazzi Entra muovi Sono fortissimo Mi butto da 2 miliardi di metri Ftum 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 Acqua 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 Ho messo cuore Dai dammi Tanto c'è Ma non ti ricordi che c'è la mod sus Lo so Ma non voglio molirle di nuovo Vai un po' più in là Ftum 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 Sei morto dalle spine Muoviti che questi si stanno ad ammassare tra di loro Tutta esperienza persa Non voglio ammazzare Ah no aspetta Torna comoda come roba Mi stai riparando il piccone No dai Anche io mi riparo il piccone Se no Dai Sennò non si va più via Dai Non sto riparando niente Neanche io Se devi riparare il piccone Fai fare a me Poi dopo vieni te Fai Fai Vai via però No No io Io to qua Qua pada in mano Allora io faccio questo Sta con la spada in mano Dai Dai che non sto riparando niente Ma io non sto riparando niente No Perché non ho niente da riparare Per favore vai là Ma ti aiuto Mi aiuti se vai là Fai un favole Adesso va bene Ti ho detto che non ho niente da riparare Ma prima non Ecco Tipo Ho battenti Che Maccano I mattoni Dovete di cercare questi mattoni Sassi Smettiteli E vabbè Dai Eh no però Dovete Ma Non fa mai Quelle battute lì Non le si possono scrivere Mi dispiace Devo cancellare il messus Non posso Che se Perché quelle battute lì Sono un po' Troppo spinte Non si possono lasciare Su Su questo Bel sito Scambo Devo rifarlo Ma fa malissimo Questo Arrivato il pizzo Ah non hai ancora mangiato No Andronellenda solo Sasso Eh Tu vai a cercare lo stronghold Lo stronghold E poi E poi Ah sì Tanto nel land si va Settimana prossima Sì sì Ovvio Però ti stai ciulato Te ne vuoi Ma non è vero Sì sono andati da te Ma vedi che vanno da te Non vanno da me Hai visto Vai nel land intanto Tanto io devo andare a mangiare Cioè vai a cercare Nel land Va bene Sasso Ma non nel land No vai a cercare strong E poi facci old Strangola Hai detto Strangola Ah Andiamo nello stronghold Signori Strangola famiglia No c'è scritto Strangola Sì It's a posta Napoletano Su Rinalda Dopo Mandami le coordinate Sub Perfetto Creeper di merda Eh sì Lì Allora In questa direzione All'arrem Baggio Devo arrivare a 1500 Così mi riparo Er piccone E sono a posto Tipico Non la famiglia Ci metteremo un po' Da arrivare al land Almeno 1000 blocchi Li devo fare Cioè devo fare Beh Prima era molto Rotto più rotto Eh Quindi Messi gode Messi Però non sai che io Ci potrei mettere Unbreaking 3 Perché ce l'ho Su che cosa? Sì Sul piccone Non l'hai ancora messo? No Non ho farmato più da mo Quindi Non Ah Non ce l'ho il VIP Aspetta Il VIP Ah e vabbè Il VIP Il VIP Sesso comunque io Adesso metto Ah ma non c'abbiamo il ferro Eccolo Comunque Sesso Lei non è ancora uscito il ferro Questa cosa Vado a mangiare Qualcosa O qualcuno No Voglio dire qualcosa A dopo Bello Eh Quante mucche sono sponate In un blocco Mucche 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 Addio Car Ehm Vabbè questo Quanta carne E la madonna Mi sono fatto uno stack di carne Ma È sbloccato Sto gioco Quanta Quanti mob ci sono Sto di crepare Mori Mori Prendi anche questo Ok Cioè ragazzi Abbiamo un casino di cibo Ciao Matti Buonasera Signori Vediamo se tropparlo A fine live Il VIP Vediamo Forse lo droppiamo Quindi Matti Domenico E chi è rimasto Prima rete Fino a fine Un'oretta e mezza Ancora Forse Potrebbe cadere Roba Sus Sì ma quante mucche ci sono E via questa Carne Carne Evviva Non diciamo che cosa Però Mucche Ragazzi Questo gioco è sbroccato Cioè guardate quanti mob Ah raga Comunque ho fixato stream element Adesso non Non vanna più Non si sa come mai La mamma dello stream element Non era una bella signora Ho finito lo spazio Nell'inventario Sì Così Mucca Bene Allora Dobbiamo andare dritti di qua Mi pare che si sia droppata Sopra l'albero Firmo Dov'è? No Andiamo Anzi sapete che cosa Prendo Una cosa Forse Riesco a fare una cosa Signori Vediamo se riesco A infilare la usb Dentro al pc Ok Prendiamo l'altra Vediamo se funziona Signori Oh Si è scesa Cosa ha scritto Matti che non ho letto Giusto Devo mettere in pausa Quell'altra La dextor È quella di microonde È del server Allora Spostiamo questo E mettiamo Un'altra roba Uh Così è molto più silenzioso Eh sì Per far silenzare il tastiero Ho trovato un modo molto sus Così posso stare Vicino Sì se spammo si sente Però Perché non metti l'almetto Perché è inutile L'almetto in ferro È inutile Andiamo avanti Dai Si è rotto l'occhio Eh sì Perché Ho tolto la chat In pausa Prima si metteva in pausa Non so perché Ups Devo ricordarmi che lì C'è il beep E che dopo Si troppa il beep Andiamo A vedere dove è sto end Coordinate Mille Eh no Do me Una volpe No Mannaggia Volpe di merda Vabbè No è sempre lo stesso Solo che Boh Mi andava Al posto di scrivere Stream col pc Aggiornato Col pc nuovo E In verità Solo aggiornato windows Guarda Ti faccio vedere Sboom Vedi ora c'è Win 11 Toom Voilà È sempre lo stesso Comunque Dove dobbiamo andare Di qua Ancora avanti Cavolo Andiamo avanti Fino a 2000 blocchi A questo punto Sì Do me Tutto a posto Anche se in inglese Non so un cazzo niente Qualcosa ho capito Aia Uh enderman Sparito Prima che lo potessi attaccare E Anche no Non rispondo in inglese Anzi si Thanks It's Very fine Lasciate perdere A quello che avete appena assistito Aia Siamo qua sotto Sono passato Sì a windows 11 Perché mi andava di farlo E poi Dal 5 ottobre Forse diventa pagamento Quindi Fino al 5 ottobre Garantito Gratis Solo che Indovinate un po' Lo aggiorno Non me lo scarica Cosa faccio? Lo metto sulla chiavetta Avvio avanzato E poi Lo installo Se non fosse che Non mi riconosceva La partizione E Non avevo più Sistemi operativi Quindi l'ho dovuto Far riparare Oh mouse Che esplode Se un pazzo Soffre di pazzia Un matto Soffre di Mazzia Bella battuta Spum Ah ma non mi cessa più La carne Nell'inventario Cosa droppo? Questo Pecore Pecore Ma c'ho la night vision Sali si Car significa macchina È un sinomino di guerra Mia cugina da Carlotta È una macchina da guerra Ah ma è come tipo quella Se sono mongola Ma ne vado fiera Se non ho mongolfiera 38 54 60 Vabbè siamo Ma quanti mob spawnano raga? 50 mob 50 mob per ogni Coso No 1700 Arriviamo a 2000 blocchi E poi lancio la Cosa del land C'era quasi una croce perfetta Ho installato windows 11 Ho formattato Si ho formattato alla fine Perché provando a Cosarlo Non ha funzionato Aggiornare Però avevo il backup Ma non mi ha salvato i file Lo stesso Lo stesso Quindi niente Ho perso tutti i video E Tutte le clip Tipo Le 250 clip E non sto scherzando Più le musiche Aia il capo Meglio avere gli occhi da falco Ah Perla del giorno E' meglio avere gli occhi a No aspetta com'era E' meglio avere un culo a mandolino O un mandolino nel culo Secondo me 62 Sono full di carne Ma c'ho la render a 8 chunk No 20 Ave tanto a Ternos Ne genera 10 Quindi Corsivo Corsivo E' versione 104 Oddio Non lo so Ti voglio bene No Penso che non lo rifarò mai più Che montagne belle qua E' bella La torna La torna Sì vabbè No si è rotta Sera signora Adele Sorella del domenico Nostro napoletano preferito Perché ruba tutto Sì Ma ho messo l'acqua E ho preso danno lo stesso Ma dai Ma che scam Cioè raga La differenza tra Questo e Cioè Spam si sente Se Appena prima Non si sente niente E' la banana mobile In che senso Cosa intendi Non so se nemmeno Se ne associarmi No 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 Sì ho perso tutto 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 Completamente Tipo Sono stato oggi 3 ore a setappare OBS Se no niente live FS le sceglie Eh sì Ma Non è morta La mucca Ma raga Il mouse Esplode Quando finisce la notte Eh Non posso farlo Domeno Non ho visto Stranger Things Quindi non Non so nemmeno Che sia Quella che nominavo E poi non mi chiamano Perché Eh Sappiamo la questione Che abbiamo dietro Eh Se no Prendo Un palo E poi Sì è più F Che L Allora però Perché mandi le moto Della L Oh Sta in questi chunk Raga Dove sta Proviamo Qua Sì ho perso un sandalo Che sembra Ah Sandalo Il santo protettore Dei piedi Capito io Dovrebbe essere in questo chunk Però per sicurezza Andiamo qua No Eh Allora in questo chunk Qua forse Sì Vai via Odio Debs Cringe Bello No Non l'ho visto Sai Non ho avuto il pc Da Domenica Eh Sai Non è sto chunk Eccolo Dov'è l'occhio Da che si è rotto Bisogna andare In coordinata Dov'è che stava Il numero del chunk Ah Lì eccolo Si andava in 4 4 Qua Dovrebbe essere qua sotto Ok Andiamo Ordinate 60 Minchia Ancora in alti Basta parlare in inglese Do me Scrivere Vabbè Perché Dovevo scendere ancora Troppo Andiamo Troppo sotto Sono sicuri che era 4 4 E non 8 8 Sa che era 8 8 Mi sa di sì Ma visto che So che ci metterò 4 anni Facciamo Stum Aia Proviamo a clacciare Eh Rubo il PC di Napoli Eh sì Lo so Lo so Sono un bravo napoletano Vai su Qua Perfetto Dovrai riuscire a salire Dai Perfetto Eh lo so Eh lo so Lo so Quello lo so È morta Beh dopo anni Anni Eh no Non piango Ci avevano creato Tipo dei memi assurdi Anche il totem Di minecraft Qua dovrebbe stare Non mi che stavolta Lo becco 65 Dovrebbe stare qua Eh 30 Dov'è Uno scheletro Salve No niente Raga dov'è Dov'è Trovarlo Stronghold È impossibile Dov'era Il buco Vai portiamolo giù Fino alla bedrock A sto punto In qualche punto Sarà Buongiorno No No mi sa che Così sono troppo basso Eh Meno 20 No è troppo basso Raga Non ha senso Ah ma scusate Aspettate Sono un pirla La chat Va Messa Qui Perché se no Si mette addosso Agli fps Faccio casino Mentre questo Lo mettiamo D'un'altra parte Allora così E questo dove Lo lasciamo raga Tipo Qua Aspetta Lo centriamo Così è centrato Eh Blocchi per salire Dai Il legno va bene Sento un po' Scammato da minecraft Oh Un sasso è apparso E I O U Che ci ha fatto Un nuovo account Il sasso Metto gridata Che stai facendo L'hai trovato Lo strong Forte No Non riesco Godo come Uriccio One Mi dai le tue coordinate Precise Oh dai Non è complicato Non ti ho chiesto Niente Per 20 minuti Adesso devo Chiederti qualcosa Eh cosa Sto Dammi le coordinate Allora Precise E beh tanto sono sempre qua Resta in un raggio di 20 blocchi Ma tanto sto scavando sotto lo stronghold Quindi 1.5 Mi legge l'altra Dai Meno 9.60 Ok Meno 9.69 Potresti anche fare Ebbene Sono a due blocchi Dal 9.69 Napolio Si chiama il mio waypoint Sono riuscito a metterlo sull'erba Bro 1.386 Vabbè Non sento Carote Doc È arrivato lui Il Scolapasta Scolapasta E ancora una volta Ciao scolapasti Scolapasta Sì ma raga Guardate quanti mob E li ritrovati in questo nuovo video HD Porco Sassu Guardi quanti mob Il doc è un guardone Fort Mi F Ma come è scritto No volevi dire come non l'ho scritto Vabbè Vabbè dai Dai No aspetta Dai Dai Sassu lo sa che io Sarò uno speedrunner Subito a cercare Sì ma guarda quanto cibo ho recuperato Sassu Sassu Facciamo uno scambio Equo Equo Io Le prime litre che trovo Se le troverò Prima io Le dotte Ok Mi dai mending Bene Così io lo posso mettere Sulle mie litre E ma così non c'ho gusto A cercare l'e litre Che senso ha Ti do l'e litre di scorta Cosa mi servono Mi serve un mending Mi darei qualcosa per scambiare mending Un napoletano Comunque non riesco a trovarlo Lo stronghold Eh ci penso io Senti a questo punto io entro Erei se non ti dispiace Ehi ho aggiornato windows Non è nuovo pc Era per fare un po' di prank Nei titoli Ulisse Sassu Ah sassu facciamo così Vediamo la condivisione del sasso Vediamo dov'è il sasso Mi faccia vedere Combattimenti Ah La perla del giorno all'IKEA Giusto Sassu È meglio Un culo a mandolino O mandolino nel culo Ok Alimentatore VOLTEC Best cosa Perché te lo fa venire in 4k Il monitor Sassu Lei la conosce la lord L'alimentatore della VOLTEC VOLTEC Guardate un po' qua Sì sassu La conosce Il lord L'alimentatore della VOLTEC Oh no Strecciato al massimo Vediamo un po' dov'è il sasso Aspè Vai 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 Andiamo Turruttu Turruttu Vedi quello là Sei te Uh Napolio Sì Bella frate ma Vediamo un po' dov'è il sasso Aspè Questa è una cosa da flexare Perché lo sai che C'è lo 0,5 No Anche di meno Di trovare La felce Grande in una cassa De villager È rarissima come roba E io la devo prendere Perché non la puoi tagliare Vabbè torniamo su minecraft No Non c'è più il sasso No Basta mi sono affeso Dove me la metto la tua condivisione Qua Qua dovrebbe starci A sto punto Boh Io scendo di nuovo Sasso lega 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 Sasso Fancuvo No c'è scritto Non è gioco Puh 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 C'è la capra urlante Mia capra Mia capra La capra urlante Mia capra Io sasso Guarda che se Meno 280 Un spawner Vabbè tanto inutile Se ciulla Se ciulla Ragno Paffanculo Bocca Mamma mia Hai spy Ho anche trovato la casetta giusta Gli spy e gli spy Porco cane Allora di qua niente Sono a 300 bocchi Oh la mia spalla distrugge C'è sharpness 5 Tra te 3 Però dettaglio Sono io che sono diventato forte Cercare Stronghold C'è Ah cerchi la golden strong Ok ok Sai che però Preferisco Cercarla Sasso puoi guardare Il condivisione Un attimo Anche se non lo fai vedere Guarda un attimo Mi serve di capire Dove sei entrato Fermate un attimo Eh ma Praticamente sotto il waypoint Serio Aspetta Diamo tanto C'è da fare Mi sa che Uno stronghold C'è il portale Si trova lì qua No Qua Dove Dove Dopo magari parliamo un po' Matti Si Ci spostiamo in pubblica Faffo Ci sta Dove Dov'è il buco Il buco Il buco sta Cerca in culo Ma quanti cavalli Ma questi sono top Per dopo Eh monta Amanda Dai aiutami a trovare Dammi il Premi F3 Ma sei letteralmente Guarda l'alto Vai alla tua sinistra Allora O premi F3 O così Dai Premi F3 Metiti in F3 così 5 Dietro di te Dritto Un po' sinistra Destra Super la montagna Sei giusto nelle coordinate Scusa Sì Apri le coordinate È giusto Tu è praticamente Sopra Aspetta Fermo Wait Wait Aspetta 25 Poi cos'è L'altra Meno Eeeh 57 Io vado avanti a cercare Ah 57 Eh stai 30 blocchi di distanza Che cazzo stai andando 57 Ah no stavo aumentando Madonna Eria 6 Fottuti Blocchi No Te hai 957 Dov'è la Portale Dai 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 Ma raga ma non Non c'è il portale Hanno scammato il portale Sasso Ma basta di esplodere Fantastici 8 Eh non ce li hai i Fantastici 69 Peccato 5 persone Io scavo così da ora in poi Sono già passato Vabbè 9 5 8 Ma è un groviera Non è una stronghold E voi io scavo qua Da vedere tipo Trovo subito la stanza del portale Ma non lo so È tipo un groviera Sto posto A che altezza stai? Eh Meno 40 È bassissimo Ma poi sono deficiente no? Perché io posso fare una roba Ma che cazzo è questo? Ma chi lo vuole? Ma vai via Forza Così a caso Perfetto Mettile anche te dai Che non ci stanno male in alto destra Che cosa? O le metti più piccole Le coordinate dai Almeno ti trovo meglio Lo so che ho messo nel mutile Perché ho trovato Però dai 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 Ma fai Aprite le feathers mod Metti Ma non c'ho voglia È troppo hard Vero È in basso L'ultima 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 Dai l'avevi trovata Vabbè Quella lì a sinistra Sinistra Sopra In alta sinistra Ma tu lo sei ritardato Se ti danno noia Rimpiccioliscile un po' Così sei a posto Capito? Ah no Facciamo così Lo facciamo Reset mod Background No E Ma Sì dai Le puoi rimpicciolire Anche un po' Magari Perché Allora Senti A tuo piacimento Quando le tieni attive A me va bene Perché almeno Non passo ore A cercare Questo che cos'ha? Efficienze 4 Cazzo ma non c'è Efficienze 5 Eh ma c'è C'ho i libri per farlo Sono scemo Dove stai andando? Sono dietro di te Sto cercare Sto seguendo da due ore Sono già passato io di qua No vero Questo no Giusto Eccolo Oh Mamma mia 4 anni Minchia Pur senza gli occhi No è un decchiaruto E mo Che si fa? Beh Sicuramente Qua si chiude Ma non c'è Lo spawner di silverfish Poi Boh Ma non c'è Boh vai a controllare Nell'end Se c'è qualcosa Ah non c'è Ancora aperto Scusa Wow che male Ma dai ma Scusa Ma mi fai mezzo il cuore? Hai rotto Eeeh Ho scappo Eh non va bene Oh oh Dove sono? Sono nascosto Topolino 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 Tutto Hai occhi del land No Ah ma ci sono anche le librerie Mie No no mie eh Mie tutto Possiamo crearci tante build Mio tutto Tutto mio Power 3 Mio tutto Tutto mio E c'ho power 4 Su casa C'è acqua finiti No acqua finiti mi serve Dammi 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 Prendilo Dammi 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 Te lo vendo Per qualcosa Eh Cosa eh Dai mi puoi dare acqua finita Eeeh Vuoi anche un po' di cibo e pelle Ma cosa Wait wait Ti serve ceste? Grazie Ci lascio Le name tag Io ci lascio tutto Perché ho tutta merda Nell'inventario Cos'altro Niente Grazie apposta Che cos'altro Libra avevi Preso anche? No non ho preso il power 3 L'ho lasciato giù Ah vabbè Tanto c'ho power 4 C'ha iiii Dici che lo sconfiggiamo adesso Il drago pure Magari la prossima volta Ma io sfrutterai il tempo Non farei la prossima volta Sai Ma sai Ma in realtà Se si fa oggi La prossima volta Si cerca un ciale litro No? Beh anche vero Non avevo voglia Di stare aspettare Una settimana Vai vedete Andiamo giù Ciuliamo tutto Sì ma sfascia Vai mazza tutto Sporca Sporca Distruggi Vai 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 Magari evita di dirlo Con quell'accento Perché sai Ah meno meno Succedono cose Allora Vado a rubare qualcuno O qualcosa No però così diventi di Napoli Cos'hai parlato di? Strunza Ti ho ridato Strunza Strunza Guarda Guarda che io Ho giocato troppo A giochi in cui devi correre tanto Quindi io sono troppo Forte Mi dispiace Preso Preso Scarzo Dai vieni Finiamo di prendere le librerie A casasso A casasso Cioè non a casaccia A casasso Vuoi altre librerie? Sì ma io ciulo Tanto senti Tu hai spazio Che io sono pieno Yes Cioè io ho un Ender Chest L'ho detto Ah tieni Anzi Uno stack Lasciamelo La prossima volta possiamo fare così Allo strong Robiamo le librerie Ma in realtà Ci sono due librerie Le altre dove sono? Mi sa che non so No in teoria ce ne sono tre Ma raramente tre Mi sa che stavolta C'abbiamo una sfortuna di merda E ce n'è spunata solo una Tieni Un altro stack Ah ma sei proprio vuoto nella chest Sì sì Eh io non vedo l'ora di fare Le litra con Le shulker Prenditi In che senso le litra con le shulker? Prenditi la chest Guada Guada come sono speciale Vdum No ma tu sei Spiderman Aspetta aspetta guarda guarda Sasso venga qua Sasso 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 Ho detto vieni qua Guardami Spiderman Spiderman Non ti consiglio di premere shift Perché ti rinasci a casa Guarda io proprio Mi sto accarizzando il toner Cool 5 Doc 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 No volevo dire No le mie lagnatele di Piderman Io signore direi che possiamo andare Nelle ender chest Vengo anch'io Sì tu sì Vengo anch'io Sì tu sì Perchè Perchè c'è la mt Gli altri 4 non li utilizziamo Non vi metto Mi aspetta dentro l'ale No Sono bluto aspetta Dai Aspetta che il mio fobaccio Sai cosa? Mi è venuta in mente una cosa bella Bro non c'ho il cape Vabbè Forse Riesco a mettere anche la tua visuale In un certo modo C'è un modo per farlo Vabbè Vabbè Ta magia Possiamo provarci signori Allora Così Poi Cerco un attimo Facciamo Praticamente Eh no però devo Fare modalità studio Aggiungiamo una scena Chiamiamo DS Sì sus Ecco Mo ci sono i silverfish Cattura finestra Sassu Discord Sassu i topi I topi Sono seguito dai topi Topo Gigio Gli diamo ok Gigio E topo No c'ho C'ho tons Ah sì Solo nell'armor Ok sassu Ce l'hai una barca Sto riuscendo Ce l'hai una barca Eh no No ma io sì Silvero Fishotto Io c'ho il mio nuovo animale da compagnia Non entrare nella barca con thorns Ok Tutto il più toglietelo al volo Vediamo se riesco signori Allora schermo Compagnia Togliamo questo Facciamo più Cena Sus Ecco Dove lo mettiamo? Ah beh Ah beh Ah beh Ah beh Qua sotto? Ah sì Aspetta che gioca in full screen Perché se no Ok Sassu 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 Nuovo animale da compagnia Topo Eh ci sta la doppia visuale no? Sì Sassu Nuovo animale da compagnia Rato Topo Cosa fa? Cosa? Niente Si è sentito una cosa Il live Topo Rato Sassu Nel mio Topo Rato Sassu 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 Sassu